Ad Aversa ora dove solidarietà e altruismo animano una particolare gara, la Stranormanna. Nello di Costanzo. Vivere per il sociale, dedicando un giorno alla felicità dei bambini, soprattutto a quelli speciali. Regalando loro un sorriso tra giochi, sport, cultura, solidarietà e partecipazione. Da anni la Stranormanna, competizione podistica che si snoda lungo le strade più antiche di Aversa, ha questa importante finalità benefica per i ragazzi diversamente abili. Una corsa, in questo caso sui 10 km per i professionisti e 2,5 per le famiglie, che rappresenta soprattutto un importante veicolo di propaganda per sensibilizzare a fare sempre di più verso coloro i quali hanno bisogno di maggiori attenzioni. Quest'anno sono state donate tre carrozzine ai bambini speciali. Nell'edizione del 2017 fu consegnata invece al comune di Aversa l'altalena per disabili. Abbiamo fatto qualcosa per il sociale, quest'anno abbiamo comprato tre carrozzine per i disabili, che si sono tantissimo divertite. Grazie a tutti, di cuore, ci vediamo alla sesta edizione.